Un 41enne originario del GAN è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa mentre stava per imbarcarsi con oltre un chilo di marijuana nel porto di Fottallo su un traghetto diretto a Malta, l'uomo era in fila per imbarcarsi. In 200 pagine sono racchiuse le motivazioni del gruppo Andrea Reale che hanno portato alla sentenza nei confronti di Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione per l'uccisione del figlio Loris a Santa Croce Camerina. Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il piano triennale delle opere pubbliche per il sindaco Abate si conclude l'intera di approvazione degli strumenti che aveva avuto un blocco a causa della mancanza dei revisori dei conti. Immigrazione e demigrazione è un paese plasmato dalla mobilità con questo tema è stato presentato ieri il dossier della Caritas a Ragusa, l'evento è in collaborazione con l'ordine dei giornalisti di Sicilia e con l'Asso Stampa. Buonasera ai nostri telespettatori e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo. Dunque lo avete sentito è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Ragusa, un corriere della droga a Pozzallo. L'uomo aveva imballato la droga con uno strato di aglio e peperoncino. L'operazione è scattata alla biglietteria del porto di Pozzallo. Tutti i dettagli da Marco Scavino. Un 41enne del Ghana, Simon Moses, è stato arrestato al porto di Pozzallo perché è in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana, pronto per essere venduto. Il corriere della droga era riuscito a deludere i controlli in quanto aveva confezionato ed occultato la droga in una camera d'aria dove aveva applicato uno strato di aglio e peperoncino. I due ingredienti alimentari, visto il forte odore emanato, hanno ingannato i cani antidroga, ma non gli agenti della squadra mobile della questura di Ragusa. L'operazione è scattata nei pressi della biglietteria dove il corriere era in fila per acquistare il biglietto, per imbarcarsi alla volta di Malta. Uno degli agenti, giunto sul posto, ha sentito nell'aria un fortissimo odore di aglio. In un primo momento aveva pensato si trattasse di prodotti alimentari, di condimenti con abbondante aglio, così come spesso accade nella cucina africana. L'odore però era troppo forte ed insospettitosi la gente ha chiamato il collega. Chiesti i documenti al 41enne, lui si è mostrato da subito nervoso. Aperto il bagaglio, la scoperta, un chilo e cento grammi di marijuana, condita, per così dire, da aglio e peperoncino. Lo strato che era stato applicato sopra la droga confezionata ne ha accultato perfettamente l'odore. L'uomo, trasforito negli uffici della questura, è stato interrogato ed ha detto di fare solo da tramite. Sapeva che a Malta c'era un uomo ad attenderlo per acquistare la droga. Per il corriere internazionale di stupefacenti è scattato l'arresto. Andiamo a Catania, operava da anni senza avere i requisiti necessari. Per questo motivo i Nasta hanno denunciato un finto dentista che da anni lavorava indisturbato ad Acireale. Sarando Zuzo. Esercitava da anni senza avere i titoli per farlo. Per questo motivo un odonto tecnico di Acireale nel Catanese che aveva aperto uno studio da dentista è stato denunciato dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità alla procura di Catania per esercizi abusivi della professione di odontoiatra. I locali dove lavorava, che erano dotati di apparecchiature costose e di nuova generazione per dentisti, sono stati sequestrati. Al momento dell'intervento dei carabinieri del Nasta di Catania, la sala d'attesa era piena di pazienti che attendevano di essere visitati, senza la minima percezione di trovarsi da un falso dentista in un luogo che, pur avendo le sembianze, non era assolutamente uno studio odontoiatrico autorizzato. Gli ignari clienti, trovati in sala d'aspetto, sottolineo in una nota i militari dell'arma, si affidavano invece a una persona che non era abilitata a svolgere la professione di dentista senza il possesso di alcuna laurea in odontoiatria o medicina e senza nemmeno avere mai interpreso percorsi formativi nel settore sanitario. Le forze e l'ordine ricordano che i cittadini hanno oggi disposizione importanti strumenti per verificare se i professionisti a cui si affidano per le cure siano muniti o meno di laurea e di abilitazione. È sufficiente consultare l'albo online dell'Ordine dei Medici, Chirurghi ed odontoiatri della propria provincia o il portale della Federazione Nazionale. E adesso parliamo dell'accorpamento delle Camere di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa. Il presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Giuseppe Giannone, fa chiarezza dopo il polverone che si è sollevato nei giorni scorsi in merito all'autonomia che potrebbe avere la Camera di Commercio di Siracusa e quanto chiede al Ministero il presidente della Regione, Rosario Crocetta. Sentiamo. Il presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Peppino Giannone, fa chiarezza sull'accorpamento delle Camere di Commercio Catania, Ragusa e Siracusa alla luce delle polemiche sollevate della probabile fuoruscita di quella di Siracusa. Giannone è molto chiaro. La richiesta di accorpamento delle tre Camere di Commercio fu sottoscritta e approvata da tutti e tre i consigli camerali il 21 febbraio del 2015, effettuata allora dai rappresentanti Ivan Lobello e Roberto Rizzo e su loro indicazione il Ministero competente nominò l'attuale commissario ad acta Alfio Pagliaro. Giannone dunque tiene a precisare che tutti e tre i consigli approvarono all'unanimità l'accorpamento. Il 21 febbraio 2015 si è conclusa questa cosa, si è conclusa, nel senso che i tre consigli camerali, tutte e tre il 21 febbraio, tutte e tre con lo stesso testo in cui si esaltava l'operazione, si diceva che era bellissima, stesso testo, concordato con Ivan Lobello, con il commissario Rizzo di Catania e approvato dai consigli all'unanimità. Il consiglio di Siracusa approvò con 22 voti su 22. 21 febbraio 2015, non si debbano dimenticare i tempi. La necessità di accorpare le tre Camere di Commercio, ha aggiunto ancora Giannone, è nata nell'estate del 2014, quando fu approvata la legge con cui venivano dimezzate le entrate per gli anticamerali. Senza questi introiti i bilanci non erano più sostenibili. Adesso tutto è rinviato al prossimo 28 febbraio, così come stabilito dal Governo regionale, il cui, assessorato alle attività produttive, ha già richiesto ulteriori pareri al Ministero dello Sviluppo Economico sull'accorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa. Per il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, la Camcom di Siracusa deve restare autonoma ed invia una richiesta al Ministero per verificare se ci sia la possibilità di accorpamento parziale tra Catania e Ragusa, procedendo così alla revoca per Siracusa. La lettera dell'assessore Lobello racconta, la lettera di ieri, racconta che tutto si è svolto in regola, quindi non è stata abolita la Camera di Commercio di Siracusa, non è stata messa da parte, non è fuori dall'accorpamento, a meno che non lo decida o il Ministro o il Presidente della Regione. Non è una cosa semplice, perché l'atto è stato firmato il 21 febbraio, certificato dai consigli, e poi il 25 settembre è contenuto in un decreto del Ministro, che allora era Ministro Guidi. Fino a quando non viene esavocata questa cosa? Con motivazione. Per ora il raccorpamento è a tre. E sulla vicenda interviene anche Giovanni Brancati, segretario territoriale della CNA di Ragusa, che intende lanciare ufficialmente la proposta di tenere più presto sulla questione. Un'assemblea pubblica aperta a tutti gli interessati e propone eventualmente la data di sabato, sabato prossimo, 18 febbraio, alle 9.30 presso la sede della CNA di Ragusa. Siamo alla Ragusa Latte, parliamo di questa avvertenza, perché i creditori hanno espresso parere favorevole al concordato del 30% sui debiti della Ragusa Latte per il prodotto mai pagato agli elevatori ex soci della Ragusa Latte. Sentiamo Viviana Sambito. Il Tribunale composto dai magistrati, Salvatore Barracca, presidente Alida Bracone, ha preso atto in Camera di Consiglio che i creditori della Ragusa Latte hanno manifestato voto favorevole al concordato liquidatorio del 30%. Questo significa che su un credito vantato di 10.000 euro l'allevatore ne incasserebbe 3.000. Quindi i creditori percepiranno solo una piccola parte delle somme perse per avere versato il latte mai pagato alla Ragusa Latte, che ha registrato un buco di 15 milioni di euro. Oggi la Ragusa Latte è stata fusa con progetto Qualità ed è nata la new company Natura Qualità. Se non fosse stato firmato quel concordato, probabilmente si sarebbe giunta al fallimento della Ragusa Latte con il rischio che gli allevatori non avrebbero potuto incassare neanche quel 30%, o perlomeno questo è stato il monito degli avvocati della società che hanno studiato giorno e notte nello studio Salemi di Ragusa i termini del concordato. Il voto è favorevole anche il frutto del silenzio assenso perché molti allevatori si sono astenuti. Continuano comunque le indagini avviate dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura Eblea che ha aperto un fascicolo con ipotesi di truffa aggravata. Giovedì dalle 9.30 gli allevatori ex Ragusa Latte saranno in piazza San Giovanni a Ragusa insieme con il Movimento dei Forconi per protestare contro un'economia bloccata dal crack dei danni da calamità naturale per i quali gli agricoltori sono finiti nel baratro non avendo ricevuto le risorse dallo Stato per mettere in cesto le aziende dopo l'ondata di maltempo delle scorse settimane. Con loro anche gli sfrattati vittime dei ribassi eccessivi del sistema di giudicazione dei beni giorno 23 febbraio sono previste 36 aste giudiziarie in una sola giornata 164 nel mese di febbraio. Dalla piazza, detto Verano Ferro, leader del Movimento dei Forconi chiederemo ai giudici esecutivi anche in forza di alcune norme riguardanti i prezzi civili molto raramente applicate di cambiare atteggiamento nei confronti di una piccola e media imprenditoria fatta di agricoltori, allevatori, artigiani e commercianti massacrati da anni di concorrenza assolutamente sleale da parte di paesi emergenti e ora soprattutto nel mondo della campagna di tutto il meridione d'Italia danneggiati pesantemente anche dagli eventi atmosferici delle ultime settimane. Parliamo di Veronica Panarello. In 200 pagine sono racchiuse le motivazioni della sentenza di condanna a 30 anni di carcere per l'omicidio del figlio Loris. Il GUP Andrea Reale ha depositato l'atto ieri nel tardo pomeriggio. Sono trascorsi oltre tre mesi da quel 17 ottobre 2016 quando il GUP Andrea Reale ha emesso la sentenza di condanna a 30 anni di carcere con il rito abbreviato per omicidio e occultamento di cadavere nei confronti di Veronica Panarello accusata di aver ucciso il figlio Loris il 29 novembre 2014. Ieri, con un mese di ritardo rispetto alle previsioni, sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna. Il giudice Reale ha descritto il carattere all'atteggiamento dell'imputata mantenuto nel corso delle udienze. La condotta processuale della donna si legge è stata deplorevole, reiteratamente menzognera, calugnosa, manipolatrice. Va assolutamente confermata e fatta propria in questa sede la definizione laconica del giudice del riesame nella persona dell'imputata. Lucidissima assassina. Sono quasi 200 pagine e 29 capitoli in cui sono state elencate le tappe del processo fino al momento della sentenza in cui il GUP Reale ha ricordato all'esito del processo l'espressione appare persino benevola perché oltre alla evidenza della piena capacità di intendere e di volere dell'imputata dal momento del fatto questo giudice ritiene di poter evidenziare la pravità d'animo con la quale la donna senza alcuna pietà e senza un benché minimo pentimento neanche dopo aver commesso il più innaturale dei crimini ha occultato il cadavere del figlio. Nella motivazione è anche descritto il ruolo della suocero della panarello Andrea Stival chiamato in corretta dall'imputata e il cui ruolo di presunto omicida è stato escluso dalla procura e dal giudice il quale ha invece sostenuto che la panarello soffrirebbe della cosiddetta sindrome di Medea che colpisce anche il suocero oltre che il marito e il figlio in una spirale di cieca distruzione dell'idea di famiglia e dei valori che la stessa incarna. Questa donna avrebbe trasferito nel bambino le frustrazioni e l'odio patito nella sua famiglia di origine e ha riversato le incomprensioni avute con le proprie inconsistenti figure genitoriali. Insomma il gruppo parla di una spirale di un crescendo di inesorabile forza distruttiva simbolo di oppressione di morte di distruzione di parte di sé del proprio sangue e in conclusione di se stessa e del suo ruolo di madre e di moglie. Per il gruppo la chiamata in causa di Stival è stato un espediente perfido e malvagio capace di distruggere tutti gli ultimi baluardi e affettivi della famiglia Stival inoculando una dose ulteriormente letale di veleno dentro quel nucleo già profondamente colpito dall'assassinio efferato dei Loris. La donna rischia la condanna anche per calugna per il resto il giudice come la procura ha sostenuto appieno il lavoro investigativo la ricostruzione dei fatti delle forze dell'ordine è stato reso merito sia la polizia e i carabinieri e sia il medico legale Giuseppe Iuvara che ha permesso di avere contezza di circostanze fondamentali per la ricostruzione dell'evento e della causa mortis il caso in primo grado è chiuso i legali delle parti questa mattina hanno cominciato a studiare gli atti soprattutto il penalista Francesco Villardit legale della difesa che in base alla motivazione della sentenza già preparerà il ricorso in appello Andiamo a Modica dove ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il piano triennale delle opere pubbliche Sentiamo E' stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2016 ieri sera in Consiglio Comunale a Modica Con questo atto viene a concludersi l'iter di approvazione degli strumenti finanziari che aveva avuto un blocco a causa della mancanza dei revisori dei conti a partire da metà maggio del 2016 dopo l'approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio e del consuntivo 2016 il Comune di Modica ritorna in regola con l'approvazione dei principali strumenti finanziari e quindi potrà usufruire nuovamente dei trasferimenti statali Il bilancio di previsione contiene un accantonamento a fondi crediti di dubbia esigibilità che di poco supera i 5 milioni e la copertura del disavanzo amministrativo di poco meno di 4 milioni di euro Il Comune nel 2016 non ha potuto usufruire di questa somma detto il Sindaco da poter investire sulla città ma li ha dovuti accantonare per i debiti pregressi scaturiti dal piano di riequilibrio finanziario e dal riaccertamento straordinario dei residui per gli anni antecedenti il 2013 Il Consiglio Comunale ha anche approvato con 15 voti favorevoli della maggioranza il piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 piano che contiene progetti definitivi esecutive e preliminari per 112 opere che spaziano dall'edilizia alle infrastrutture viarie dai servizi alla prevenzione dei rischi idrogeologici due le opere che verranno finanziate in questi giorni con i fondi Ex-Insicem e che serviranno a potenziare l'asse viario che correga il ponte Guerrieri con la zona artigianale e l'altra ad ampliare la rampa di accesso alla Contrada Caitina dalla SS 115 La prima opera prevede la realizzazione di una doppia corsia di uno sparti traffico e dei marciapiedi laterali nel tratto che va dalla rotatoria della via Sacro Cuore alla rotatoria della via Resistenza Partigiana In Contrada Caitina verrà invece riqualificata l'intera area per consentire di potervi accedere da entrambi i sensi di marce eliminando così un pericolo elevatissimo per la circolazione due opere riguardano anche lo sport e il turismo la realizzazione di un campo di atletica leggera nell'area attualmente a verde in corso Sandro Pertini e il completamento della scalinata di accesso al Castello dei Conti Dopo aver parlato con i commercianti della via Roma siamo andati a trovare il sindaco Federico Piccitto gli abbiamo proposto un'intervista di un commerciante che lanciava un appello sentiamo Facciamo finta che la telecamera sia la faccia del sindaco Piccitto che cosa si sente di dirgli aiuto dovete aiutarci dovete metterci al centro dell'attenzione della città ed ecco che questa domanda ha ricevuto una risposta in merito alle polemiche sorte sulla via Roma interviene infatti oggi il sindaco Piccitto al primo cittadino abbiamo chiesto alla luce delle numerose dichiarazioni di politici associazioni e dei commercianti stessi che tipo di azioni Palazzo dell'Aquila stia predisponendo nei confronti di quello che era e tuttora dovrebbe essere il salotto buono della città di Ragusa abbiamo istituito questo tavolo permanente e a breve lo convocherò perché stavo aspettando i nominativi dei componenti delle associazioni di categorie dei commercianti e dei residenti e quella sarà la sede in cui discuteremo anche del futuro dello sviluppo perché è chiaro che la decisione su via Roma è una decisione che deve necessariamente intervenire tutta la città e quindi bisogna anche lì avviare un dibattito che magari in passato è stato ridotto solamente a pochi elementi credo che sia giusto che tutta la città si muova e discuta di quello che è il futuro che si vuole da dal canto nostro in questi anni abbiamo incentivato moltissimo le attività le nuove aperture in centro storico con la riduzione della tassazione locale penso alla TOSAP penso alla riduzione sulla Tari per le nuove attività abbiamo previsto moltissime nuove attività in centro storico in termini di intrattenimento di spettacoli per esempio il capodanno qualcosa che esiste da quando c'è questa amministrazione in piazza San Giovanni prima non si festeggiava in piazza San Giovanni così come altre attività che sono partite il birrocco e tante altre che fanno vivere il centro storico è chiaro che non si può nemmeno dall'altra parte chiedere appellare ad iniziative una settimana di questo tipo per rianimare il centro storico perché sarebbe anche economicamente insostenibile per il comune è chiaro che quello che bisogna cercare di fare è da una parte politiche abitative quindi cercare di fare ritornare le persone in centro storico con una rivisitazione anche delle condizioni di vita nel centro storico e quindi tramite il piano regolatore e quindi anche quello bisogna lavorare su questo A Catania Silvana Riccio neo prefetto si è insediata ieri pomeriggio incontrando i giornalisti e ha sottolineato il ruolo di prefetto che è quello di una funzione di garanzia a tutti i cittadini perché rappresenta lo Stato sul territorio Conosco molto poco Catania ma me l'hanno illustrato come una città molto viva e mi piacerebbe conoscerla bene spero di avere dalla stampa tutta la massima collaborazione necessaria per leggere una informazione che si è fatta in maniera imparziale è esordito così la nuova prefetta di Catania Silvana Riccio insediatasi ufficialmente ieri la Riccio è stata in passato prefetto con l'incarico di alto commissario per il contrasto alla corruzione e prima di arrivare nel capoluogo Ettenneo è stato ufficiale di governo a Rieti e Piacenza e commissario straordinario in diversi comuni sciolti a causa della mafia incontrando la stampa la Riccio ha voluto sottolineare quale sarà il suo ruolo cioè la prefettura è lo Stato sul territorio e per me ha soprattutto una funzione di garanzia dei diritti di tutti quanti poi non sempre ci saranno le soluzioni perché non è che possiamo pensare che abbiamo il coniglio o la ricetta giusta per tutto però sicuramente l'impegno anche in quella funzione come dire di mediazione che una prefettura può svolgere ci sarà al massimo per quanto mi riguardi c'è un'informazione molto generica ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio andiamo a Ragusa per parlare di immigrazione ed emigrazione non solo le ondate di sbarchi e numerosi arrivi sulla terra italiana ma anche i viaggi degli italiani dei ragusani che superano i confini di Stato per trovare una certezza nel mondo del lavoro questo al centro dell'interessante incontro che si è tenuto ieri a Ragusa dove a presentare i numeri e a spiegare il fenomeno migratorio in genere è stato il direttore della Caritas di Ragusa l'evento si è tenuto al centro studi Feliciano Rossitto e ha avuto come tema immigrazione ed emigrazione un paese plasmato dalla mobilità si è parlato del più 124% dei ragusani che hanno scelto di lasciare la propria terra del numero in costante aggiornamento in riferimento agli arrivi e delle percentuali riferimento alla nazione di provenienza dei migranti giunti sulla nostra terra tra gli argomenti affrontati rapporto italiani nel mondo 2016 la mobilità italiana tra partenze crescenti e nuove incertezze politiche per la valorizzazione degli italiani all'estero la mobilità umana in provincia di Ragusa tra i relatori del finalicata capo redattore rapporto italiani nel mondo Giovanni De Vita vicario della direzione centrale per i servizi agli italiani all'estero e Vincenzo Lamonica responsabile immigrazione Caritas di Ragusa l'incontro ha visto la partecipazione e la collaborazione dell'ordine dei giornalisti di Sicilia e della sostampa abbiamo voluto coniugare anche l'aspetto dell'immigrazione cioè noi abbiamo circa 23.000 persone che giungono nel nostro territorio che sono presenti strutturalmente nel nostro territorio a fronte di questi 28.000 hanno lasciato ecco il nostro territorio quindi ci confronteremo su questi dati come appunto questa mobilità è storica e non solo emergenziale a prendere parte all'evento anche il prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizi un momento importante che si ripete ogni anno e che contribuirà a dare un po' diciamo quelli che sono i dati statistici sul fenomeno chiaramente noi porteremo l'esperienza di quelle che sono gli sbarchi 60 solo nel 2016 con 20.000 più di 19.000 persone sbarcate quindi è un fenomeno imponente che comunque si riesce a gestire con la collaborazione e la sinergia di tutti Gianni Molè è stato confermato ancora una volta alla guida della segreteria provinciale della Sostampa entrano due nuove figure in segreteria Alessia Cataudella come vice segretario e Maria Carmela Torchi come tesoriere adesso parliamo della festa degli innamorati San Valentino noi oggi siamo andati in giro vediamo un piccolo pensiero con il gesto d'amore e oggi la festa di San Valentino è una ricorrenza che ricorda tutte le coppie di essere fidanzate sposate e di amarsi ma è davvero così perché amarsi in fondo è tutta la vita ma cosa comprano quanto spendono e cosa faranno per questa ricorrenza ma per me San Valentino è tutti i giorni non è solo oggi quindi per me non è il pensiero va tutti i giorni al mio marito cosa è per lei San Valentino che festa che ricorrenza è? una festa commerciale è vero che oggi per questo giorno un pochino così particolare un bimbo di quasi sette anni lui sa che San Valentino porterò un dolce a forma di cuore per mio figlio e mio marito è il momento anche di porre ad una riflessione gli uomini questa giornata in particolare la riflessione sarebbe che non si deve amare la propria donna solo oggi e soprattutto la sorpresa non va fatta solo a San Valentino ogni anno una tradizione che si rinnova sempre una tradizione che si rinnova perché l'amore è una cosa meravigliosa San Valentino cosa rappresenta per una coppia che è sposata da tanti anni per l'esattezza quasi 38 anni perciò un bel traguardo oggi come oggi penso che sia un bel traguardo ma cosa le dice a sua moglie quando le consegna questo bel mazzo di fiori cosa le dirà scriverò un pezzerino perché è affettivo la cosa più bella che si potrebbe fare io sinceramente non lo festeggio perché sono single però auguro un buon San Valentino per tutti i ragusani penso che lo dovremmo ricordare tutti i giorni e in ogni momento quali sono le richieste da parte di uomini e donne allora sempre la regina rimane la rosa rossa quindi parliamo di Red Noemi di rosa appunto a gambo lungo poi come novità abbiamo la rosa Rainbow ecco questa rosa multicolor effetto arcobaleno questa è molto richiesta pure sì abbastanza è una rosa che appunto ha un paio di anni che è in commercio poi abbiamo anche la richiesta dei mazzimisti quindi tulipani iris fiori di campo anemoni ma da che ora sono portite le telefonate per prenotare queste composizioni? da ieri mattino che abbiamo abbastanza richieste per telefono da consegnare e da preparare al marito penso di fare un pensierino sono amaretata e sono felice così tutto è amore e vediamo come si festeggerà San Valentino al centro commerciale La Fortezza tra gli eventi in calendario per i mesi di febbraio al centro commerciale La Fortezza di Modica oggi 14 febbraio festa di San Valentino un doppio appuntamento con la musica Eleno Gastronomia una cena a spettacolo per una serata da grandi emozioni Maglio Dovì reduce da tale quale show interpreterà i grandi successi di mostri sacri della musica internazionale che hanno segnato gli incontri e i più bei momenti d'amore per generazioni di innamorati la serata vedrà anche la partecipazione di Antonella Arancio un talento della canzone italiana che riempirà la serata con le emozionanti melodie dei suoi successi il tutto ovviamente accompagnato da ottimi piatti preparati da pala in padelle per una ristorazione da gran gourmet con il dottor Stefano Stroppiana manager del gruppo Sercom del centro commerciale La Fortezza abbiamo parlato dei contenuti e del ruolo che ha il centro nel tessuto sociale e culturale del territorio Ibleo Entrare nel tessuto sociale e culturale di un territorio equivale all'organizzare degli eventi che si tengono al centro? Assolutamente sì c'è ovviamente eventi che si realizzano in un ambito di un calendario programmato e quindi che cercano di dare un'identità precisa alla struttura e conseguentemente ovviamente di creare comunque una continuità nel corso dell'anno in termini di opportunità per la famiglia Nello specifico cosa si possono aspettare i visitatori e i clienti del centro commerciale nei mesi di febbraio? Beh oggi sicuramente abbiamo in programmazione fino al 28 un calendario molto nutrito di eventi legati al carnevale ovviamente questa sera in modo particolare celebriamo la festività di San Valentino con uno spettacolo di musica dal vivo parteciperà Maglio Dovì che porterà appunto tutti i personaggi tutti gli artisti della musica nazionale internazionale che ha presentato nel programma Tale e Quale Show quindi da Frank Sinatra a Modugno a Celentano con imitazioni che sono veramente incredibili insieme ad Antonella Arancio esattamente insieme ad Antonella Arancio una cantante catanese molto nota tra l'altro il centro commerciale è anche a misura di bambino assolutamente sì abbiamo creato nell'ambito del progetto del calendario ovviamente di carnevale tutta una serie di eventi proprio specifici per i bambini faremo anche di più apriremo a breve una scuola del cinema che riguarderà proprio i bambini che saranno portati a preparare una fiction ambientata sul modello ovviamente della serie Montalbano all'interno del centro un gioco in scatola che racconterà la storia di Modica e un telegiornale dei bambini che speriamo di poter ospitare sulla vostra televisione non ci sono aggiornamenti concludiamo qui questa edizione di MTG vi lascio come sempre a meraviglioso di salvo la rosa noi ci rivediamo domani grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti